buongiorno a tutti e vi parlo brevemente del mio editoriale scienze epidemia e politica al tempo del coronavirus pubblicato sul numero 32 di storia magistra del 2020 in esso si pone in evidenza la recente importanza assunta dalla scienza degli esperti perché perché proprio ad essi si è richiesto da parte dei politici la fornitura di parametri oggettivi che potessero essere in grado di operare le opportune scelte di carattere politico sanitario. Ebbene questa idea di richiedere dei parametri oggettivi inequivoci indubitabili riflette a mio avviso un duplice difetto di consapevolezza in merito alla natura e ai poteri della conoscenza scientifica. Innanzitutto vi è appunto l'idea che la conoscenza scientifica possa dare sempre soluzioni certe inequivoche come se fosse trovare la soluzione di un'equazione di secondo grado. Ebbene questo modello è stato smentito dagli stessi matematici i quali non pensano più che sia necessario o sia sufficiente un calculemus e così come ha già detto Giancarlo Rota o recentemente Houston Edwards su numero delle scienze se chiediamo a 100 matematici da dove deriva la verità di un'affermazione matematica otterremo 100 risposte diverse. Ora questo qui è tanto più vero quando ci spostiamo dai sistemi formali come la matematica e la logica a quelli che hanno a che fare con la concretezza della realtà. Qui le soluzioni facili oggettive e inequivocchi sono possibili soltanto quando abbiamo a che fare con sistemi ideali molto semplici in cui entrono in gioco pochi parametri non quando abbiamo a che fare con quelle che sono state chiamate le scienze della complessità cioè con quel mondo fatto di un'infinità di fattori che interagiscono tra di loro per i quali vale il cosiddetto effetto farfalla molto citato per quanto riguarda i fenomeni atmosferici e a maggior ragione quando abbiamo a che fare ad esempio con i cosiddetti territori di confine cioè quei territori per i quali non sappiamo fino a che punto le conoscenze che già sono consolidate e disponibili possono dimostrarsi ancora valide. E' questo proprio il caso dell'epidemia. Terapie e metodologie di cura che in passato sono state utilizzate con efficacia ora vengono esportate e applicate a nuove varietà virali nell'aspiranza che in questi casi essi risultano sempre efficaci. Ma questo è un azzardo. E' un azzardo perché non sappiamo se effettivamente le due situazioni sono comparabili. Per cui attendersi dalle situazioni delle indicazioni esatte e caricare gli esperti di un compito eccedente alle loro stesse possibilità. E' un atteggiamento puerile da parte di molti politici. E' d'altra parte la constatata difformità di opinioni che si avverte tra gli esperti è non un problema diciamo di bizzarria individuale. Lo si vede anche per quanto riguarda il riscaldamento globale sul quale esistono molteplici opinioni. E tuttavia ciò non significa che non esista una consolidata consapevolezza scientifica in alcuni settori. E qui appunto si innesta la politica. I decisori che devono implementare delle politiche nel breve tempo possono aspettare che tutti i problemi e tutti i dubbi degli scienziati siano risolti? Cioè che si arriva a una univoca definizione di ciò che è la soluzione migliore? I tempi della decisione politica sono diversi da quelli della scienza. Un politico saggio non assume le decisioni in base all'opinione di alcuni scienziati ma in genere si serve dell'opinione della parte maggioritaria della comunità scientifica. Ecco l'importanza dei panel, dei panel formati da numerosi scienziati che non è sindomo di indecisione da parte del politico ma è saggia prudenza nel prendere o nell'assumere delle decisioni di importanza. Pertanto sarebbe un errore criticare questa metodologia di azione però altrettanto errato sarebbe quello di pensare che ciò che vale per la riscienza o per le decisioni in tempi di emergenza possa valere per la ricerca che avviene normalmente che quindi non è pressata dall'esigenza di trovare soluzioni immediate. In questo caso l'esistenza di ipotesi diverse, di linee di ricerca promosse da scienziati che non lavorano né in mainstream della conoscenza condivisa deve essere incoraggiato perché soltanto da queste ricerche alternative a volte diciamo contrarie a quelle che è l'opinione della maggior parte degli scienziati possono venire delle buone idee, delle nuove idee. Ma con precondizione di tutto questo è che la politica non scopre il valore della conoscenza quando si trova con l'acqua alla gola, cioè che i finanziamenti ci siano, siano costanti e siano prevalentemente diretti al settore pubblico perché il privato soffre di due difetti. In primo luogo è interessato in ritorno nel breve termine dei propri investimenti, in secondo luogo investe in quei settori che si risultano più produttivi. Il settore delle malattie infettive che si riteneva poco produttivo dal punto di vista della redditività dell'investimento è stato così trascurato dal settore privato, è stato a carico del sistema pubblico il quale all'improvviso si trovò ad affronteggiare una situazione per la quale assolutamente non era preparato. Ecco bisogna fare lezioni di questa esperienza del coronavirus anche per impostare la politica della ricerca per il futuro dell'Italia. Grazie.